A seconda dei punti di vista un paradiso di anime libere. Turda rinfocola le polemiche sui rave party. Ne parliamo in studio con Nicola Pertuso, presidente della Silb Puglia, l'associazione che riunisce gli imprenditori dei locali da ballo e di spettacolo. Presidente, questi rave sono quasi sempre illegali. Perché non si riesce a fermarli? Sono sempre illegali, non si riescono a fermare perché, come diceva il servizio, molto spesso sono organizzati in maniera assolutamente anonima e vengono comunicati i luoghi soltanto nelle ultime ore. Noi come associazione di imprenditori riteniamo che non sia questo il divertimento, il divertimento per i giovani deve essere assolutamente sicuro. Combattiamo questi fenomeni, siamo a fianco delle forze dell'ordine per poter smascherare gli organizzatori e i luoghi e poterli denunciare affinché queste cose purtroppo non avvengano. Questi rave dunque sono fuori controllo sostanzialmente. Invece quali controlli vengono effettuati nei vostri locali per prevenire simili incidenti? I locali invece di tutta la regione, quelli stabili dove c'è invece un imprenditore, quindi sono locali che sono notoriamente conosciuti anche dalla clientela, sono sottoposti a tutti i controlli di pubblica sicurezza. Non solo, all'interno di questi locali operano ragazzi che si occupano di security assieme a personale che viene formato da noi imprenditori e quindi ha la capacità di poter intervenire per tutte le questioni legate proprio a problematiche, legate proprio alla sicurezza e alla salute dei clienti. Quindi siamo organizzati e predisposti per fare il primo intervento e per non avere problematiche di questo tipo. Quindi, in conclusione, quale messaggio possiamo dare ai giovani e ai loro genitori? Nei vostri locali ci si può divertire senza correre rischi? Noi desideriamo una Puglia che sia divertente, dove la gente si possa divertire in massima tranquillità. Quindi noi sconsigliamo di recarsi verso questi luoghi dove non si ha conoscenza di quello che possa poi avvenire, e consigliamo invece di frequentare i locali che invece sono assolutamente noti. Per di più, il consiglio che diamo, utilizzate anche gli autisti designati, cioè quando si ritorna a casa è meglio tornare con qualcuno che non ha bevuto. Ringraziamo Nicola Pertuso. Parliamo di...